Vi chiedo di accettare la registrazione e come ben sapete informazione corretta adesso è quindicinale e ha lo scopo di informarci su quello che sta accadendo. Io credo che ciascuno di noi sa benissimo quello che sta accadendo perché basta accendere la tv o aprire un sito su internet e vediamo di tutto. La situazione è sempre più ingravescente perché Hamas non vuole cedere i superstiti perché poi le persone che sono state rapite non siamo sicuri che siano tutti vivi. Quindi si rifiuta di dare i superstiti, chiede sempre, fa sempre domande più esagerate, quasi come se non ha nessuna voglia di portarla a pace. E un po' forse sta anche giocando dicendo in questo modo Israele si accattiverà l'odio di tutte le altre nazioni. Noi non sappiamo come sta ragionando il nemico perché si chiama Hamas ma noi sappiamo benissimo che cosa vuol dire la parola Hamas c'è anche nella Bibbia. Quindi sicuramente il male contro il bene in questo momento per cui dobbiamo pregare tantissimo per Israele perché si sta trovando veramente da solo. Dobbiamo pregare tanto per tutti i familiari sia delle persone che sono state rapite ma anche quelli dei soldati. Perché in tv parlano dei morti che ci sono a Hamas cioè nella striscia di Gaza ma non sta parlando anche di soldati che stanno perdendo la vita, soldati israeliani. Quindi veramente preghiamo per queste famiglie, preghiamo per i bambini, per le donne anziane, uomini anziane, donne che purtroppo sono ancora sotto le mani del nemico. Perché sono state rapite e continuiamo a pregare. Non scoraggiamoci perché tante volte si arriva a un momento dove cominciamo a essere anche stanchi ma calcoliamo che è ancora più stanco il popolo di Israele, il popolo che si trova sulla striscia di Gaza. Preghiamo perché il male possa essere abbattuto nel nome di Gesù e il Signore ci ha fatto una promessa. Ha detto che non ci abbandonerà e non ci lascerà mai. Infatti questa sera abbiamo qui con noi il fratello Mickey Yaron che adesso non vedo più. Eccolo qui. Ci parlerà appunto di questa promessa eterna che ha fatto prima di tutto al suo popolo e poi a ciascuno di noi quando l'abbiamo accettato nella nostra vita. Quindi vi chiedo di silenziare tutti i microfoni e lascio la parola al carissimo fratello Mickey Yaron. Prego. Grazie. Allora i versetti li puoi proiettare? No, purtroppo non riusciamo a proiettarli però io li ho preparati quindi quando tu mi dici cosa leggere io leggo. Ok va bene allora preghiamo padre noi ti ringraziamo per questo tempo insieme e chiediamo di parlare a noi attraverso tuo spirito e preghiamo per la situazione per gli ostaggi per i soldati per le persone in Gaza che non sono coinvolti e in Israele e quelli che sono senza casa padre. Stai con noi e insegnaci quello che tu ci vuoi insegnare nel nome di Gesù, Yeshua. Allora io sì potrei c'erano tante cose da dire di Pasqua che già abbiamo finito solo abbiamo fatto il seder e di Pasqua erano 100 persone e noi facciamo anche trasmissione. Potevamo parlare della situazione anche se qualche sorella ha detto che voi sapete meglio di noi perché voi guardate sempre, noi viviamo qui perciò per noi non è che apriamo sempre le notizie a guardare. Ma come voi sapete ultimamente in questi giorni in America soprattutto in tutti i paesi dell'Ovest in Europa l'antisemitismo si alza la testa e questo è per vent'anni di lavaggio di cervello e dei musulmani che cercano proprio di iniettare dentro delle persone che tu anche se chiedi qualcuno quando dicono libera Palestina non sanno nemmeno dove è Palestina, cosa è Palestina, chi sono palestinesi. Perciò io penso che è molto importante che noi e voi e voi anche insegnate gli altri delle radici di come Israele è stata fondata spiritualmente e che voi capite bene. Io so che sapete anche bene molte cose che voi sapete ma potete anche spiegare e questo come anche si può vedere nella nostra vita che adesso siamo secondo me come dico sempre non nell'inizio, nemmeno non nella fine ma all'inizio della fine per certo e perciò dobbiamo sapere. Allora apriamo ebrei capitolo, sì era lettera di ebrei all'inizio? Sì, sì, l'ebrei capitolo 3 verso 5. No, capitolo 13. Scusami, 13, sì sì ho il 13. Sì. Versetto 5. Lo leggo? Sì. Nel vostro comportamento non siate amanti del denaro e accontentatevi di quello che avete perché Dio stesso ha detto io non ti lascerò e non ti abbandonerò. Ecco, la seconda parte del versetto che volevo parlare, Dio non lascerà Israele, non abbandonerà Israele e la stessa cosa anche non lo farà con voi e con noi. C'è un interessante versetto in Geremia, mi sa 30 o 31, che dice che io dovrei cambiare tutte le leggi naturali affinché lascerò Israele. Cioè lui dice anche ti amo in amore eterno. Ok, perciò vediamo qui già in questo versetto di Ebrei 13 che Dio ha scelto Israele, non Israele ha scelto Dio, Dio ha scelto Israele. Ok, e quando Dio sceglie nessuno non può discutere. E questo è anche se vediamo in Ezechiele 36 versetto 22, non devi aprire, dice Io non ho scelto Israele per voi, ma per il mio nome, per la mia gloria. Perciò Dio fa delle cose e i suoi pensieri non sono nostri, noi non sappiamo molte volte, ma lui ha scelto Israele e così ha deciso. Ha preso un popolo debole, un popolo forse anche con molti peccati, quello disubbidiente per far vedere che lui attraverso la sua chiamata e scelta, lui può trasformare questo popolo in quello che lui vuole. E lo stesso anche con te, ok? Forse tu sei perfetto, io sono fuori, molto non perfetto, però Dio ci ha scelto, Dio ti ha scelto, non per la tua scelta e per la sua scelta. E questo è molto importante. Io quando sono stato in Italia sempre c'è questa cosa, io sono credente perché ho accettato Gesù. Sì, è vero a dire così, ma è lui che accetta noi, non è che noi accettiamo lui. Anche lui ci accetta non perché abbiamo un cuore aperto o qualcosa così, sì, Dio lo fa, ma è tutto per la grazia di Dio, come si dice in Fessini 2, 8, 9. Non per le opere, non per quello che hai fatto o farai, ma per quello che lui è. Anche Deuteronomio 7, 7 dice io vi amo non per voi, ma perché io sono Dio d'amore. Questa è la mia, diciamo, questa è la mia personalità, ok? Se noi abbiamo menzionato Ezechiele 36, se voi, forse non adesso, ma se leggete Ezechiele 36, vedete come Dio dice come trasforma il popolo di Israele. Dio dice, li prende dalle nazioni, li mette in Israele, li dà un cuore nuovo e toglie il cuore di pietra, mette l'acqua pura della parola, ok? E lui fa da noi un popolo, fa tutto lui, noi non facciamo niente. Perciò Dio è quello che ha scelto Israele e perché ha promesso, così ha fatto. Perciò noi sappiamo e abbiamo la tranquillità, nessuno ci butta fuori da qui, ok? E questa è una cosa che voi dovete sapere, è lo stesso voi. Nessuno vi prende dalla mano di Dio, è scritto nella parola di Dio. Voi siete scelti da Dio, ok? Per grazia, ma voi siete scelti da Lui, ok? Non è per voi che non si vanterete e così è molto importante. E come ha scelto Israele? Andiamo più avanti. Attraverso un patto, un patto eterno. Vediamo Salmo 89, 34. Non violerò il mio patto e non muterò ciò che è uscito dalle mie labbra. Gloria a Dio. Ecco, se lo dice lui, non è come lo dice Biden o Netanyahu o qualcun altro. Loro dicono una cosa, poi fanno un'altra a volte, ma qui Dio dice non violerò, ok? Salmo 147. Sì, aspetta, ancora no. In Esodo 5, 6 dice io vi ho fatto un regno di sacerdoti, cioè una nazione santa per me, ok? Allora Dio non può violare quello che ha promesso. Ah, ma come mai? Ma Israele ha sempre disubbidito Dio, come mai? Ma il patto che lui ha scelto è un patto incondizionato, non dipende di quello che facciamo noi. E per questo il problema della teoria di sostituzione, che dicono adesso Israele ha disubbidito, Dio ha scelto noi. Ma io penso che sapete benissimo che anche voi molte volte disubbidiamo Dio. Ma Dio non cambia noi con gli altri, ok? Sì, ci correggia a volte e ci mette in strada, ma non sceglie altre. E così è anche fatto con Israele. E queste persone sono così forti per questo che adesso noi siamo Israele e tutte le benedizioni di Israele su di noi. Le maledizioni no, le maledizioni sì, ma questo non va. Come ripeto il versetto, io ho amato Israele un amore eterno. Io amo voi in un amore eterno, dice Dio. E amore incondizionato non dipende di quello che voi fate. Vedete il figlio prodigo e altri esempi della Bibbia. Perciò noi dobbiamo sapere questo molto, molto forte. E poi vediamo che anche se Dio ha scelto un patto incondizionato, ha detto molte volte, ha fatto anche patti condizionati. Voi sarete puniti, sarete esiliati se non ubbidite a me. E infatti attraverso la Bibbia vediamo dall'Esodo, poi nel deserto, poi nel paese, sempre il popolo di Dio, tranne alcune persone che Dio sempre ha conservato, da Noè, da Abramo, da Mosè, da Giosuè, dai profetti, dai giudici, eccetera, sempre abbiamo disobbedito e Dio ci ha fatto spandere in varie nazioni, soprattutto in Babilonia e in Persia, sappiamo, no? E poi però Dio ha davanti ai Suoi occhi sempre la Sua promessa. E leggiamo Salmo 147, 2 e 3. L'Eterno edifica Gerusalemme e raccoglie i dispersi di Israele. Egli guarisce quelli che hanno il cuore rotto e fascia le loro ferite. Ecco, allora Dio sempre fa delle cose, ma per un tempo, ok? Ma poi ricorda le sue promesse e noi, e voi soprattutto, anche dovete farlo ricordare, le sue promesse. Noi siamo le segretari di Dio, come segretaria di un dottore. Dice, ricordati Dio, nella tua parola è scritto che tu ci porti alla terra promessa, vero? Non è che Dio è demente, ma Dio vuole che noi lo faremo ricordare. E lui dice, io non comincerò dal primo, ma dal secondo, forse, che lui raccoglierà tutti quelli che sono fuori. In ebraico è scritto Yekabetz. E per questo è il famoso posto che si chiama Kibbutz. Kibbutz sarebbe un posto dove si raccogliono la gente, insieme. E viene anche dalla parola Kibbutzah, che sarebbe un gruppo, ok? Allora Dio ha sparso, ma Dio ha raccolto. Noi lo possiamo vedere, le persone che tornavano dalla Persia, dal Babilonio, ma questo è la salvezza fisica. E lo vediamo che durante questi anni, milioni di ebrei dalla Russia, dall'Europa, dal Sud America e dagli altri paesi venivano in Israele. E fine a oggi vengono, ok? E questa è una promessa, ma Dio ha detto, non finisce qui. Ripeto all'Ezechiele 36, vi porterò, c'è la salvezza spirituale, spargerò l'acqua della parola e prendo il cuore di pietra, metto il mio cuore, farò un nuovo patto con loro e saranno il mio popolo. Io sarò il loro Dio, ok? Allora lui ha detto che li raccoglie fisicamente, poi li tocca spiritualmente. E poi dice, quello che tu hai letto anche, che lui costruisce, cioè lui li porta dall'esilio, come l'ha portato dall'Egitto, li porta dal Babilonia, li porta dal Persia, li porta dalla Russia, li porta dall'Ucraina. Ma a volte il problema è che noi usciamo dall'esilio, ma l'esilio non esce da noi. Quando vengono gli immigranti hanno ancora la mentalità, come gli ebrei nel deserto che volevano tornare indietro. Era molto difficile di portare l'esilio da loro, la mentalità, la personalità. E questo vediamo dopo quello che Dio dice. Ma comunque l'importante è che lui dice che costruisce Gerusalemme. Sì, se noi vogliamo vedere parola per parola, allora già dal periodo di Neemia lui ha costruito le mure di Gerusalemme. 48 c'era lo Stato di Israele, 67 c'era Gerusalemme unita, le due parti. Però anche lui costruisce Gerusalemme spirituale, anche in noi. Quando lui ci porta e ci fa uscire dal peccato, ci porta alla salvezza per la grazia, ancora non siamo lì, ancora dobbiamo crescere.